La pistola per far fronte al maltempo si è allenata sul terreno insintetico del campo Frascari. Gli arancioni si stanno preparando alla partita di sabato prossimo, inizio ore 15, contro l'Aquila. Non ci sono novità rilevanti per quanto riguarda le operazioni di calcio mercato. Un paio di giocatori sono sul piede di partenza. Per quanto riguarda l'infermeria, Vassallo sarà liberato lunedì prossimo dal gesso al polso destro. Il difensore Prasito invece è a disposizione dei medici della Sampdoria che lo stanno curando. Contro l'Aquila ci sarà il debutto interno di Corrado Colombo che è tornato in arancione a distanza di otto anni. Si può dire che il vero campionato della pistola inizia domenica prossima in casa contro l'Aquila? Mi sembra averlo già sentito troppe volte questo discorso che il campionato inizia e il campionato inizia. Siamo già a metà campionato, inizia il giro di ritorno e quindi dobbiamo iniziare a far bene. La classifica è quella che è? Sì, purtroppo se non avessi avuto la penalizzazione in Savona saremmo penultimi. Quindi sarebbe ora di rimboccarci le maniche e iniziare a far bene. Che cosa ti aspetti in questi ultimi cinque mesi di campionato? A livello di squadra è di ottenere la salvezza il prima possibile e a livello personale di far bene, come ho sempre detto.